E' un accordo importante perché noi andremo a favorire l'applicazione di sconti perché utilizzerà i nostri treni per tornare in Italia, ci saranno altre agevolazioni per pacchetti che possono essere utilizzati e anche sensibili alle famiglie, quindi direi che è sicuramente un passo importante a favore dei nostri concittadini e per permettere loro di tornare a visitare il proprio paese di origine. Riteniamo che poi promuovere anche questo tipo di soluzione consenta a noi e al paese di far apprezzare anche tutte le altre destinazioni, non solo quelle coperte direttamente dall'alta velocità ma anche le destinazioni meno grandi ma molto belle quali sono appunto le vallate, i paesini che sono al di fuori di un circuito classico ma che attraverso una combinazione tra alta velocità, treni regionali e anche autobus laddove necessario consentono a chi viene di apprezzare il bello del nostro paese. Anche perché cresce la voglia di treno dal punto di vista turistico? Non c'è dubbio, poi sono un veicolo commerciale di sviluppo importante perché sono colleghi che a loro volta sono inseriti in un tessuto sociale, economico e possono anche loro indirettamente fare promozione. Oggi abbiamo segretato questo accordo con la Farnesina che ci consentirà di avere accesso alle nostre ambasciate e ai nostri consolati per promuovere sia questo pacchetto di soluzioni ma anche l'utilizzo del treno come veicolo per poter apprezzare il nostro paese. Grazie a tutti.